Congedo mestruale a scuola, si è riunito il comitato studentesco al liceo Teresa Ciceri di Como, ma al momento non sarà presentata una proposta formale al preside. Il dibattito di questi ultimi giorni per ora dunque si ferma. Al termine della riunione gli alunni hanno deciso di percorrere però un'altra strada, più inclusiva, spiegano, che coinvolga cioè non soltanto le ragazze con dolori forti durante il ciclo mestruale, ma anche le eventuali altre patologie certificate. In sostanza si punta a chiedere di inserire nel regolamento, di fronte ad un'assenza giustificata da certificato medico per una patologia specifica o per un problema temporaneo, come ad esempio un intervento chirurgico, che quei giorni non vengano computati nel monte ore massimo di assenze consentite per considerare valido l'anno scolastico. Una soluzione che nella sostanza spesso viene già applicata, il Consiglio di classe infatti può derogare alla normativa nazionale di fronte a particolari situazioni di salute motivate e sempre a fronte di una valutazione sull'intero percorso scolastico dello studente. La proposta alla quale stanno lavorando i ragazzi del liceo Ciceri punta quindi a codificare questa opportunità all'interno del regolamento. Si chiude dunque così per ora l'animata discussione, partita anche da quanto è stato fatto al liceo artistico Nervi Severini di Ravenna che prendendo a modello la Spagna alla fine dello scorso anno è stata la prima scuola in Italia a riconoscere il congedo mestruale alle studentesse.